Un grande spettacolo e con lo spettacolo si rievoca la fede, la tradizione. Mentre i palloncini sono all'altezza di San Nicola, guardate lassù. Che bello, mentre il nostro service illumina, a Deodato e San Nicola. E' bello vedere con tutti gli smartphone, i tablet, le macchine fotografiche, e riprendere questi momenti bellissimi, anche perché so che per questo evento ci raggiungono anche da fuori Terlizzi. E per la nostra città è un ulteriore successo, perché le nostre tradizioni hanno l'apprezzamento anche da fuori Terlizzi. Bambini, fate un applauso ancora a San Nicola e a Deodato! Mi sa che non vi hanno sentiti dall'assù con l'applauso. Più forte con quelle manine! A Deodato è già più vicino alla fine della sua discesa. Vi saluta e voi salutate lui! Salutate a Deodato con la manina! Ciao a Deodato! E un altro saluto anche per San Nicola, con il suo mantello che svolazza nel vento! E la mano! Vi saluto!